Eccoci qua, non siamo pronti con le modelle? Scusate, vero, hanno ragione della regia dovevamo avvisarli, però... Non so, vai capelli lunghi, il regia deve soffrire. E voi ve lo mettete sulle gambe, perché è il periodo in cui andiamo a togliere le calze. Quindi guardate come idratiamo la pelle, la proteggiamo, andiamo a minimizzare tutte le imperfezioni dei capillari, delle vene varicose. L'oro crea una seconda pelle, come Charlize Theron, che cammina, Giador... Guarda che si vede già un pochino bellissima. Io non sono abbronzata, pensate se voi foste già abbronzate, o comunque adesso che magari inizia la bella stagione, si va al mare, si prende un po' di colore... E soprattutto andiamo tutti al mare in un colore verde, perfetta. Invece andiamo a dorare, ad aumentare la luminosità della pelle e 200 ml di protezione solare con la capacità antiossidante dell'oro puro. Andiamo a revitalizzare proprio tutto il corpo, il décolleté. E pensate di metterlo sotto il sole, al posto della protezione solare, perché questa è anche una protezione solare, oltre che un illuminante, invece di spetasciarvi con tutte quelle creme biancaste che sembriamo poi usciti dal... Dal... Andiamo a prendere il sole tutte belle e durate! Guardate che meraviglia! Guardate che décolleté! Guardate ragazzi che meraviglia! Ti faccio anche l'altro maraviglia! La bambolina dorata! La sirenetta! Allora, ci sono due minutini di coda al nostro call center, grazie ragazzi per darci questa fiducia. Se non conoscete numero uno perfetto, iniziamo a tornare nella nostra postazione, vi invito a fare il vostro primo acquisto, perché... Cammina già d'ora! Guardate che si vede già un pochino bellissimo! È proprio bellissimo! Io non sono abbronzata!